Buongiorno dalla redazione di Life News 24, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Tra poco scopriremo insieme i principali titoli dei giornali nazionali e regionali di oggi, giovedì 22 dicembre. Grande risalto ancora sulle prime pagine ai fatti di Berlino, al tragico attentato di pochi giorni fa, ma tiene banco per la politica interna il caso Roma con il sindaco di Roma, appunto, Virginia Raggi, in grande difficoltà, sul quale adesso c'è anche la lenta di ingrandimento dell'anticorruzione. Per i fatti calabresi invece, grande risalto, non potrebbe essere diversamente all'inaugurazione della nuova A3, quindi oggi la visita in Calabria del Premier Gentiloni e del Ministro del Rio. Cominciamo però dalla cronaca nazionale, quindi dalle prime pagine della Repubblica, che come vi dicevo in anteprima, dedica il suo titolo principale al caso Roma. Marra atti a IPM, ora Raggi può finire indagata. MPS, oggi si chiude l'aumento di capitale, Qatar non partecipa, si va verso il flop. Scatta il salvataggio di Stato della banca. Leggiamo nel dettaglio. Per Raffaele Marra, capo del personale del Campidoglio, finito in calcio per corruzione, arriva anche la boccatura dell'ANAC per la promozione del fratello Renato alla guida della direzione Turismo. Una situazione conosciuta dalla sindaca Raggi. Per Montepaschi intanto è pronto il salvataggio di Stato, quindi anche l'economia legata alle notizie più importanti. C'è poi il caso che fa discutere la politica e sono le dichiarazioni del Ministro del Lavoro Poletti e che va verso una mozione di sfiducia. La minoranza d'Emma attacca via i voucher o la votiamo il Ministro, non mi dimetto. Poi la storia, quindi ancora reazioni alle dichiarazioni del Ministro Poletti, perché quelle parole ci hanno fatto male. A parlare evidentemente sono coloro che vengono chiamati in causa del Ministro, ovvero i cosiddetti cervelli in fuga. C'è una sola spiegazione, scrive la Repubblica in prima pagina, per cui le improvvide parole del Ministro Poletti sui giovani all'estero hanno suscitato così tanta rabbia, per saperne di più, nelle pagine interne a pagina 35. Sono sondaggi politici, c'è appunto un focus di Repubblica, Corsa 2 PD, Movimento 5 Stelle, ma nel sondaggio post referendum pesa il Campidoglio. Quindi i dati diffusi da Repubblica, che vedono il PD a dicembre 2016 al 30,2%, mentre un mese fa era a 30,4%, e poi il voto dell'Europeo 2014 del 40,8%. E risalita anche il Movimento 5 Stelle, che va in discesa leggermente, il Movimento 5 Stelle, che passa dal 29,8% di novembre al 28,4% di dicembre. Così la Lega, che dal 13,7% passa al 13,2%. Infine Forza Italia dal 12% di novembre al 12,7% di dicembre, a margine, appunto, le percentuali ottenute alle ultime europee. La fotonotizia centrale, come vi anticipavo, è dedicata ai fatti di Berlino, quindi il killer venuto dall'Italia. Berlino, il killer venuto dall'Italia, in cella, quattro anni, ma mai espulso. Su questo argomento anche le analisi, quindi il racconto, il super sospettato, lasciato in libertà, le dichiarazioni del Ministro dell'Interno, Marco Minniti, rivediamo la rete di sicurezza, e le idee, la resistenza della Germania. Lasciamo la prima pagina della Repubblica, per andare su quella del Corriere della Sera, che evidentemente dedica ampio spazio all'argomento del giorno, quindi il terrorista venuto dall'Italia, titola proprio così Il Quotidiano di Milano, ricostruendo la sua storia in Italia, le fiamme a Lampedusa, gli anni in cella in Sicilia, caccia all'attentatore, la strage di Berlino, la rete dei salafiti, in contatto con l'Isis, la madre di Fabrizia, la ragazza italiana dispersa, mi ha lasciata. Comincia al centro di detenzione minorile di Lampedusa la vita in Europa di Anis Ammery, il killer del mercatino di Natale di Berlino. non ha documenti, poco dopo viene arrestato per incendio, lesioni, minaccia e appropriazione in debita. È condannato a quattro anni. Nonostante questo, come abbiamo visto, è stato libero di colpire così duramente. Al centro della pagina del Corriere della Sera c'è una significativa immagine di Papa Francesco, che come un cittadino qualunque fa shopping in un negozio romano. e quindi lo stile di Francesco titola il Corriere tra i clienti di un negozio di scarpe. Gli acquisti, il conto in hotel, vita quotidiana del Papa. È entrato l'altro ieri nel negozio che vende scarpe ortopediche in via del Gelsomino, come in qualsiasi altro cliente, per acquistare le calzature che lo aiutano contro i problemi di sciatica e all'Anc. Papa Francesco continua a stupire con la sua normalità. La sicurezza, quindi, dopo l'attentato di Berlino, ancora le dichiarazioni del Ministro dell'Interno, anche i vigili vanno utilizzati per la sicurezza. Un pezzo di Fiorenza Arzanini in prima pagina sul Corriere. Contro terroristi che organizzano di volta in volta attacchi con tecniche flessibili e imprevedibili, anche la sicurezza deve adottare misure modulate sulle realtà locali. Nell'attentato di Berlino, Marco Menniti, Ministro dell'Interno, ricava una lezione strategica. Le azioni dei lupi solitari possono essere contrastate solo da una rete che va dall'intelligence fino ai vigili urbani. Continuiamo sulla stampa nazionale con una rapida carrellata sugli altri quotidiani, partendo dal giornale che titola ancora Il killer di Berlino era profugo in Italia. Terrorismo e immigrazione. Il tunisino Amri era sbarcato in cerca d'asilo, si è fatto quattro anni di galera e poi è finito in Germania ed era seguito dai servizi. Il fatto quotidiano sceglie un'apertura diversa, come spesso fa, e la dedica alla soffiata, agli appalti e papà Renzi, indagato il comandante dell'arma, il generale del 7, accusato di favoreggiamento e rivelazione di servetti ai vertici consi. Per un'otica che ha in esclusiva il fatto quotidiano, che spiega, secondo la procura di Napoli, il capo dei carabinieri ha svelato le indagini e le micro spie per la corruzione, nella commessa cui puntava l'imprenditore Romeo. Passiamo al Libero, che fa un'apertura politica, la dedica a Silvio Berlusconi. Silvio salta di là la nuova realpolitik di Berlusconi. Forza Italia vota col governo per salvare la banca del PD, probabilmente avrà in cambio un aiutino per Mediaset. I parlamentari, quando gli fa comodo, sono più veloci di Spi di Gonzales. In 10 minuti danno 20 miliardi a Monte dei Paschi di Siena, ma le tasse non le tagliano, se no chi le paga si chiede libero. Passiamo al messaggero quotidiano romano, lo stragista cresciuto in Italia. Berlino caccia un tunisino sbarcato come migrante con un barcone a Lampedusa. Quattro anni di carcere a Palermo, poi l'espulsione su di lui, una taglia di 100 mila euro. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico di Confindustria, dedica il titolo principale a Monte dei Paschi, quindi alla vicenda delle banche MPS. La conversione non basta, arriva il decreto salva banche. Dai bond 2,44 miliardi, servirà un nuovo piano del tesoro. Sì delle Camere ai 20 miliardi per gli istrutti di credito. Padoan, obiettivo stabilità e tutela del risparmio. La stampa di Torino, ancora i fatti di Berlino, fuggito dall'Italia il killer di Berlino. Vediamo nel dettaglio. Dopo lo sbarco del 2011 a Lampedusa, quattro anni di cella a Palermo, poi evitò il rimpatrio. Il sospettato per la strage è un tunisino di 24 anni, caccia ad una cellula giadista con ramificazioni in Europa. L'unità, ancora, la parentopoli dei grillini. Quindi, attenzione puntata sul caso Roma, per il giornale l'unità, per l'ANAC l'assunzione del fratello Di Marra era conflitto di interessi, e Raggi sapeva. Presto indagata nuova denuncia su appalto ATAC per 4 milioni. E a Ragusa, il Movimento 5 Stelle, vota contro il proprio sindaco. Lasciamo le prime pagine dei giornali nazionali per concentrarci su quelli della nostra regione, che, come vi dicevo, dedicano ampio risalto alla visita odierna del Premier Gentiloni per l'inaugurazione della nuova A3. Questa notizia guadagna, ad esempio, la foto centrale sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, che titola, con un punto esclamativo, completata, la Salerno-Reggio Calabria. Ci sarà oggi anche, come dicevo, il Premier Paolo Gentiloni alla cerimonia conclusiva a Santa Trada di una giornata che si annuncia storica con la chiusura dei cantieri. La Salerno-Reggio Calabria da oggi non sarà più sinonimo di incompiuta, ma non mancano voci critiche, naturalmente. C'è chiaramente un richiamo ai fatti internazionali, quindi ritorna anche qui la notizia del caccia caccia all'attentatore di Berlino, Berlino caccia a un tunisino, la strage nel mercatino, il presunto killer è il 24enne Anis Ammerì, già detenuto in Italia per quattro anni. Poi notizie di cronaca nel taglio alto della Gazzetta del Sud, corsi fantasma in 16 a processo, tra gli imputati anche l'ex assessore Saverio Zavettieri, tutti accusati dell'associazione per delinquere, è tentata truffa aggravata. Un richiamo di sport, sempre nel taglio alto della Gazzetta, con il derby di Lega Pro, il Catanzaro cerca un regalo nel derby contro il Cosenza. Ancora la cronaca con i richiami dalle province, Santonofio, estorsioni e agguati, Nicola Bonavolta torna libero, Catanzaro, integrazione ospedali, Roma da il Via Libero, da Sant'Andrea, sullo Ionio, maltrattamenti e resistenza, in carcere 38enne, a Crotone, Andrangheta, negli appalti del Torinese, sei condanne. Infine, un fatto di cronaca avvenuto a Vibo Valencia negli ultimi giorni, il rumeno ha coltellato, arrestato la compagna. A questo episodio è dedicato anche un servizio del nostro DG che andiamo a vedere. Ha coltellato il compagno al termine di un litigio per futili motivi. È successo ieri sera, poco dopo le 7, in un appartamento di Vibo Valencia. Vittima è un rumeno di 43 anni, colpito all'addome da un coltello da cucina. L'uomo, ancora sanguinante, è riuscito a raggiungere la vicina stazione di polizia. Trasportato al pronto soccorso dello Iazzolino è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'addome. La prognosi è riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. In manette, con l'accusa di tentato omicidio, è finita Elena Mirabello, 55 anni. Sarebbe stata proprio lei, subito dopo aver ferito il compagno ad allertare il 113. Giunti sul posto, gli agenti della squadra mobile l'hanno trovata in stato confusionale, con gli abiti sporchi di sangue. Ai poliziotti, la donna ha raccontato di aver accoltellato il suo compagno durante un litigio. Trasportata in questura, è stata dichiarata in arresto e su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Benedetta Callea, sottoposta agli arresti domiciliari. Elena Mirabello era la moglie di Giovanni Lopiccolo, ucciso il 25 febbraio del 2010. Per quell'episodio fu arrestata l'amante polacca dell'uomo, poi condannata a dieci anni in primo grado, ma assolta in appello. Tutti e tre vivevano nello stesso appartamento. Anche in quell'occasione il delitto sarebbe maturato dopo una lite, con l'uomo che, dopo la coltellata alla gola, guidò fino al pronto soccorso per poi stramazzare al suolo in una pozza di sangue. Cristina Iannuzzi per la CNews 24. Ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud di Cosenza per scoprire quali sono le notizie in questa edizione provinciale. Il taglio alto è dedicato al derby Cosenza-Catanzaro. Punti pesanti in palio nel derby. Cosenza-Catanzaro di fronte alle 14.30 allo stadio Marulla. Ma che si è sequestro di botti nel Cosentino. Ancora dai richiami alle notizie interne, cybercrime, la polposta sopravvive ai tagli da Montalto Fugo la vicenda dell'ottrodotto a Proda in Europa. A palo due esperti valuteranno le assunzioni al Comune. Scalea l'aviosuperficie lanciato un appello alle istituzioni a Corigliano redditi bassi ed evasione Comune senza soldi. Restiamo a Cosenza perché c'è un'ultima ora di cronaca che dà conto di un'operazione della Guardia di Finanza. La leggiamo insieme. I finanziari della compagnia di Rossano coordinati alla Procura della Repubblica di Castrovillari hanno scoperto e sequestrato un opificio industriale destinato alla produzione e al confezionamento di detersivo contraffatto di una nota marca. Arrestate tre persone sequestrate 64,5 tonnellate di detersivo contraffatto e materie prime utilizzate per il confezionamento. Tre persone come vi dicevo sono state arrestate due denunciate a piede libero per i reati di contraffazione turbata libertà dell'industria e ricettazione. Andiamo ancora dalla Gazzetta del Sud però a scoprire la prima pagina dell'edizione di Reggio Calabria. A Reggio saltano i parcheggi titola la Gazzetta del Sud arriva il parere negativo della sovrintendenza dovranno essere valorizzate le scoperte venute alle luce dopo gli scavi. Ancora da Reggio ecosistema all'ASED scattano i sigilli quindi l'inchiesta su appalti e rifiuti che continuano ad avere strascichi pesanti. A Reggio ancora a Pommetro avvia interventi per 90 milioni da Bagnara Giovanni Barillà è il candidato dei giovani democratici a Scilla sospeso il consigliere di minoranza Mollica Gioia Tauro ultimo comizio di Pedà poi la sfiducia infine riace un'assemblea pubblica sulle dimissioni di Lucano dalla Gazzetta del Sud ci spostiamo al quotidiano del Sud partendo dalla prima pagina di Cosenza che dedica il titolo principale chiaramente alla vista del primo ministro Gentiloni in Calabria Gentiloni per inaugurare la 3 il presidente del consiglio e il ministro del Rio oggi alla cerimonia ma i filoni di inchiesta salgono a 3 l'ultimo sull'eccessiva velocità dei lavori ancora secondo la procura di Castrovillari la qualità ne sarebbe stata condizionata il consiglio poi dal consiglio regionale fotonotizia centrale il consiglio dà l'ok alla legge di bilancio e lo stop a scura approvata una norma che blocca le iniziative strategiche dei commissari ancora scorrendo la prima pagina nel taglio centrale Marrelli la protesta sulla 106 poi il sì a Roma ha ottenuto un tavolo ministeriale sul budget per la clinica crotonese il sindaco di Riace ancora una notizia qui nel taglio centrale è stato istituzioni contro quello che facciamo Mimmo Lucano sindaco di Riace come saprete ha annunciato le proprie dimissioni dopo gli attacchi in rete ci sono richiami alla cronaca internazionale quindi caccia al giorno tunesino anche sul quotidiano del sud e poi una riflessione di natura politica PD da fusione a freddo alla rivoluzione degli ex da Cosenza arriva la notizia di un provvedimento del leader dei diritti civili Corbelli e quindi anche del comune ringraziato padre fedele non a caso container dignitosi per i bisognosi senza soldi e senza casa il dramma di un leggeriano di 25 anni incinta la rende malata di SLA lavorerà per il comune sui temi della disabilità da Cosenza ci spostiamo sempre dalle prime pagine del quotidiano del sud a Catanzaro la mezza e Crotone per vedere cosa cambia nella prima ma c'è diciamo la notizia nel taglio basso mare inquinato processo per Rotella disposto giudizio immediato per il dirigente del consorzio di Bonifica non avrebbe chiuso i serbatoi provocando così sversamenti in mare a Ruggero ancora da Platì ma al tempo c'è del ponte 10 famiglie isolate a Zungri salta il precetto genitori infuriati scoppia il caso ancora il quotidiano del sud la prima pagina di Reggio Calabria che come vedete non variano le notizie principali se non quelle nel taglio basso anche qui si dà conto del sequestro della ditta a Sedbeni sotto chiave per 13 milioni colpito l'imprenditore di merito portosalvo a Zara coinvolto nell'inchiesta ecosistema l'impresa ritenuta di riferimento del clan di Amonte che monopolizzava il settore dei rifiuti infine la prima pagina dell'elezione di Vibo Valencia con il processo per i fondi illeciti alla provincia appunto fondi illeciti alla provincia si va a processo il dibattimento per la vicenda dei finanziamenti comunitari è previsto per il prossimo 28 febbraio coinvolti l'ex presidente Denisi i consiglieri Barillaro Raffaele Brosi e Condello e due dirigenti dal quotidiano del sud facciamo un ultimo passaggio sulla stampa regionale anzi provinciale lo facciamo con la provincia di Cosenza la procura scrive il quotidiano cosentino sequestra la salma di Claudia operata di Alla Luce Valgo nel capoluogo poi ricoverata a Cosenza i magistrati vogliono fare chiarezza la morte in corsia ha rinviato i funerali della Tenzenna di Luz si è deceduta a causa di un batterio poi c'è la notizia del viadotto di Celico dove sono stati installati gli impianti semaforici appunto sul ponte ancora scorrendo la prima pagina il bilancio regionale passa dopo una seduta interminabile e maltrattamenti sull'anziana Villa Egea citata in giudizio facciamo un rapido passaggio o meglio un approfondimento sullo sport perché c'è questo importante derby oggi di Lega Pro che come vedete ritorna sulle prime pagine di diversi quotidiani Cosenza ecco tre motivi per battere il Catanzaro a questo evento sportivo è dedicato il nostro servizio che andiamo a vedere subito nel match nel match d'andata non ci fu partita impossibile pensare il contrario dopo l'estate turbolenta sui tre colli e l'avvio nel segno della continuità in rival Crati un girone dopo Cosenza e Catanzaro si ritrovano di fronte più o meno nella stessa situazione di allora con qualche certezza in più ma anche tanti ma tanti pensieri in più innanzitutto la classifica che pesa come un macigno sulle spalle gelorosse e comincia a gravare anche su quelle rosso-blu l'ultimo posto è una fascia che tiene tarpate le ali delle aquile tuttavia a punti nelle ultime tre gare consecutive ultimo periodo che invece ha lasciato a digiuno i lupi silani sei volte nelle ultime dieci gare non un andamento da buttare sia chiaro ma che ha rischiato di far rotolare la testa di Giorgio Roselli e Soneri a raffica che hanno caratterizzato come si ricorderà la prima parte del campionato dell'US con quattro tecnici a libro paga e tanta confusione in campo scompiglio a cui sta provando a mettere ordine Nunzio Zavettieri tecnico che però ha già messo in bacheca un piccolo record sotto la sua gestione il Catanzaro non ha ancora perso un derby ha pareggiato con la regina e vinto con la vibonese uguale uguale al collega di Cosenza che dalla sua però acqua il 3-0 del ceravolo che ancora brucia come il sale su una ferita aperta Zavettieri allora era uno spettatore giovedì sarà l'uomo chiamato a regalare un derby che manca dal 17 marzo del 2015 Alessio Buonpasso per la CNews24 Andiamo ora a scoprire le pagine interne dei quotidiani regionali partendo dal quotidiano del sud dalla prima pagina dell'edizione di Catanzaro che dedica il titolo principale al giudizio a cui sarà chiamato Rotella dirigente del Consorzio di Bonifica risponderà a lui del mare inquinato non avrebbe chiuso i serbatoi provocando sversamente in mare a Ruggero da Catanzaro a Cosenza una notizia che abbiamo già visto in prima container per i dignitosi per i poveri corbelli di diritto civile ringrazio a pare fedele a Cosenza come Bethlehem senza soldi e senza casa il dramma di una nigeriana incinta di 25 anni a Reggio PONMETRO 86 milioni in 3 anni già cantierabili opere per 10 milioni per la crescita sostenibile e l'inclusione sociale il sindaco Falcomatà frutto di un lavoro oceanico da Reggio infine a Vibo come saprete si è votato per il rinnovo del Consiglio Provinciale a questo argomento dedicato l'apertura della pagina interna del quotidiano del Sud Provincia nel PD è già a Bagard dunque le reazioni al voto Cutrullà eletto in Consiglio Provinciale attacca lo schiavo Pileggi Tomaino e Fiorillo per il voto allo bianco Luciano provincia unica soddisfatto verso il sostegno Anniglia dal fronte del centrodestra il centrodestra perde mangia lavori no il consigliere regionale da solo porta a casa due consiglieri e 106 voti di lista enorme la forza messa in campo dal Partito Democratico e da provincia unica questo argomento ritorna anche sulla pagina interna della Gazzetta del Sud edizione di Vibo Valencia che titola elezioni provinciali nuovi scenari focus dunque sugli equilibri politici derivanti dal voto alla provincia il Presidente del Consiglio Luciano ora bisogna investire su progetti e uomini credibili dunque suona come un avviso di chiamata al Sindaco Costa infatti leggiamo la vittoria dell'asse Luciano Lo Schiavo in città diventa un monito per il primo cittadino a costa vediamo nel dettaglio però chi sono i nuovi consiglieri provinciali di Vibo Valencia in questo servizio per la lista numero 3 contro il segno provincia unica quattro seggi lo bianco Alfredo Antonio Gugliotto Francesco De Nardo Tiziano Fera Pasquale eletto il nuovo consiglio provinciale di Vibo Valencia nella nuova squadra del Presidente Andrea Niglia rientrano il Vice Presidente uscente nonché consigliere comunale di San Nicola da Crissa Pasquale Fera e Gianfranco Ranieri di Rombiolo il consigliere più votato è stato Alfredo Lobianco di Vibo Valencia ad eleggere il nuovo consiglio provinciale gli oltre 400 amministratori del Vibonese che nella giornata di ieri si sono recati nell'aula consigliare dell'amministrazione provinciale alta l'affluenza alle urne pari all'89,6% degli aventi diritto tre le liste in campo Partito Democratico e la lista provincia unica che hanno conquistato quattro seggi a testa due i seggi assegnati invece alla lista centrodestra Vibonese per la lista ispirata dal deputato PD Bruno Censore sono saliti i consiglieri comunali Giuseppe Pellegrino di Filadelfia Giuseppe Cutrullà Antonio Schiavello di Vibo Valencia e Anna Grillo assessore di Soriano per la lista provincia unica nata dall'accordo tra l'ex presidente della provincia Francesco Denisi e il presidente del consiglio comunale di Vibo Valencia Stefano Luciano oltre a Pasquale Fera e Alfredo Lobianco anche Francesco Gugliotta di Filadelfia e il sindaco di Pizzoni Tiziana Denardo infine della lista del centrodestra Vibonese ispirata dal consigliere regionale Giuseppe Mangialavori risultano eletti Gianfranco Ranieri di Rombiolo e Giuseppe Rombolà di Drapia compito del nuovo consiglio provinciale sarà quello di rilanciare l'iniziativa politica protesa a restituire dignità ad un ente le cui competenze e la cui efficacia sono state drasticamente ridotte per effetto della riforma del Rio Cristina Iannuzzi per la CNews24 Davide Bovalenzi a Reggio Calabria restando sulle pagine interne della Gazzetta del Sud l'argomento che tiene banco è quello di Piazza Garibaldi il no definitivo ai parcheggi la giunta municipale avviva la revoca dell'appalto da quasi 10 milioni e procederà con nuovi scavi la soprintendenza dei beni archeologici trasmette un parere negativo per l'opera e fornisce le indicazioni per valorizzare l'area da Reggio a Cosenza anche qui le elezioni provinciali però che devono ancora essere celebrate nel capologo Bruzio le elezioni provinciali i candidati ancora abbottonati a Palazzo dei Brusi spuntano i nomi di Leonardo e Ambrogio mentre i sei federati scelgono De Cicco l'assemblea di piazza 15 marzo aspirerebbero in tanti ma nessuno si sbilancia se prima non verranno individuati i papabili alla presidenza infine le pagine interne di Catanzaro ancora dalla Gazzetta del Sud Ivan lo stacanovista del municipio si parla di presenze in aula cresce la produttività dell'aula dalle 45 del Libere del 2012 alle 151 dell'anno in corso il Presidente del Consiglio Cardamone è stato il più presente e quello che ha partecipato al maggior numero di votazioni siamo quasi in chiusura lo facciamo con un ultimo passaggio sullo sport dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport che dedica il titolo principale alla vittoria dell'Inter e Tango Inter i nera azzurri si confermano terza vittoria di fila in Serie A l'asse argentino Banega Icardi schianta la Lazio 3 a 0 c'è poi l'attesa per la super sfida di Doha quindi Supercoppa Milan Juventus i cinesi del Milan dicono sì al premio per la Supercoppa Marotta apre a James Rodriguez che è potenza di fuoco ora la Juve può spendere Chiellini Scelgo di Bala sarà decisivo Buonaventura ci pensa Bacca lo aiuto io lo sport conclude la nostra rassegna stampa odierna io vi ringrazio per l'attenzione vi rimando ai prossimi appuntamenti con la nostra informazione a partire dal TG delle ore 14 a tutti voi l'augurio di una buona giornata visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizie